ciao a tutti oggi vorrei introdurre uno degli argomenti più interessanti e importanti dei giorni nostri un argomento che è soprattutto un cambiamento perché oggi con i seminari educare bnl entriamo insieme nell'era digitale avete mai riflettuto su quanto sia cambiato il modo di vivere la banca oggi sembra normale parlare di banca digitale pensare che una banca sia dentro un telefono dentro un computer accessibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 pensare di poter pagare una bolletta straiati su un lettino in spiaggia fino a non molto tempo fa era impensabile nell'era digitale il modo di vivere la banca è radicalmente cambiato ed è sicuramente più comodo di prima basta conoscerlo date un'occhiata ad alcuni commenti che abbiamo trovato navigando l'app è certamente uno degli strumenti più importanti di questa rivoluzione è come avere la banca nel tuo smartphone per tenere sotto controllo il saldo tutti i movimenti gestire bonifici giroconti ricariche bollettini postali e molto altro con il touch d vi basterà appoggiare un dito sullo smartphone per farvi leggere l'impronta digitale e accedere dall'app in un istante con una sicurezza mai toccata prima tranquilla ormai le banche garantiscono elevati standard di sicurezza ad esempio bnl quando acquisti online oltre al numero di carta richiede anche un altro codice criptato generato dal pass bnl il cosiddetto codice ott in più è possibile richiedere il servizio sms alert per essere avvisati su ogni movimento delle tue carte di pagamento e dei due conti correnti puoi finalmente dire addio alle attese per pagare una bolletta oggi basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone il codice a barre che trovi sul bollettino e in pochissimi minuti non pagherai mai più una bolletta in ritardo la nuova app bnl pay nasce non solo perché teniamo alla vita dei coccodrilli ma soprattutto perché vogliamo rendere più semplice la tua infatti bnl pay trasforma il tuo smartphone in un vero e proprio portafoglio digitale ad esempio puoi attivare e disattivare le tue carte mastercard in tempo reale e verso singoli specifici paesi puoi inviare soldi ad un amico come se mandassi un sms fare acquisti online semplicemente inquadrando il qr code e pagare il parcheggio della tua auto e molto altro tutto in uno tutto sempre a portata di mano l'era digitale ha rivoluzionato il nostro modo di usare la banca tutto è più pratico più veloce più fluido e siamo solo all'inizio con i nostri seminari educare bnl vi aiuteremo a conoscere ancora più a fondo tutti gli attori principali la tecnologia contactless l'app trading gifi masterpass e altro ancora così che ognuno di voi possa diventare protagonista di questa straordinaria rivoluzione